soldi 30 milioni per un difensore sono tanti sì 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 vedo che qua in becca è arrivato il nostro ospite salutiamolo ciao spanno ciao buonasera per essere qua paglia a te l'onore di tenerla baracca dato che io non ho il piacere di conoscere il nostro ospite vabbè spanno vabbè innanzitutto a mio amico e poi è un grande tifoso del cagliari fa delle live anche lui su tutte le piattaforme se se vi piace il mondo cagliari salotto rosso blu lo trovate su un po ovunque e ho avuto anche il piacere di essere ospite da lui per prima della famosa partita che abbiamo perso contro il cagliari l'anno scorso e l'ho invitato per parlarci esatto l'ho invitato per parlarci un pochettino di sulle manna visto che in pochi qui l'hanno visto hanno visto comunque l'hanno potuto seguire le sue gesta con il cagliari volevo che ci parlassi un po di che tipo di giocatore è come lo vedi anche nell'atalanta visto che tu bene o male qualcosa di atalanta vedi perché chiaramente abbiamo amici in comune tutti atalantini quindi bene o male gli facciamo vedere anche l'atalanta e parlaci un pochettino un pochettino di lui buonasera a tutti sono spanna un tifoso del cagliari appunto e faccio parte di una relazione sportiva affiliata al cagliari e tratto fondamentalmente il mondo cagliari e tutto ciò che concerne anche il calcio associato sempre al cagliari e sulle mana sicuramente per il livello del cagliari un bel giocatore a noi è piaciuto molto specialmente perché è molto giovane aveva fatto l'esordio con noi dopo che abbiamo acquistato dal verona la prima partita col torino e fece una grandissima prestazione e che è stata proprio la prima di campionato da lì si è mantenuto con ranieri per un 3 4 partite fin quando si era un po spento per un po di mesi ha fatto panchina poi è tornato a giocare diventato un centrocampista abbastanza fisso della rosa e le sue caratteristiche sono è molto caparbio e corre molto comunque cercando i palloni gioca fondamentalmente come può giocare come mediano ma su tutto il centrocampo tira anche in porta a volte è stato messo anche come trequartista però tendenzialmente diciamo fa la fase di interdizione ma allo stesso modo si associa anche ai registi non è un regista non è un giocatore che ti fa le verticalizzazioni che ti fa costruire gioco è un giocatore però di fisico molto veloce e bari centro basso comunque è schillato è un bel giocatore insomma soprattutto molto giovane e secondo me quando ho visto quest'estate che si parlava di macumbu al calcio all'atalante anche di sulemana non ero molto stupito perché sono due giocatori che vedendo il modo in cui intende il calcio gasperini ce lo vedevo bene e specialmente perché sono due giocatori che si impegnano con molto talento e altamente tecnici sicuramente vedendo il centrocampo dell'atalanta non penso proprio che lui possa fare titolarità anche con ale parlavamo magari in privato si pensava magari a un trasferimento in prestito per fare esperienza perché comunque avete un bel centrocampo non dico saturo però un centrocampo che rispetto ai livelli di sulemana è migliore però suleman è giovane è molto giovane e accanto a dei giocatori di livello non come quelli del cagliari può far bene comunque nel contesto cagliari ha fatto un gran che bene ha fatto un paio di gol entrambi tra l'altro da fuori area col frosinone e con il verona proprio due bei gol e ci dispiace molto che sia andato via perché l'arrivo di diciamo che è un po' la supercazzola classica che fa il cagliari cioè io con ale ho parlato anche quando è venuta nella nella mia trasmissione l'atalanta è una società seria il cagliari no fondamentalmente e quindi il cagliari hanno chiuso un'operazione della madonna ma ascolta dipende come vuoi intendere la società cagliari con ciò che rispecchia il cagliari al tifoso medio vedi tre giocatori per uno zortea piccoli un altro giocatore a dopo molto giovane nello specifico però abbiamo fatto la vendita di docena che tra l'altro conosco personalmente in modi discutibili per poter fare fondamentalmente ricevere quel livello di liquidità tale per poter far mercato poi vendi sulle mano un altro giocatore giovane ma ti metti a dire nella conferenza stampa che il cagliari ha un tesoretto e poi prendi due giocatori in prestito di cui piccoli che non so di quanto quanto è il riscatto ma sarà sicuramente sui 12 15 milioni quindi il cagliari non se lo permetterà mai 12 15 no il cagliari non se lo permetterà mai zortea non so ancora le cifre ufficiali ma sicuramente sarà sotto i 7 milioni immagino poco sopra i 5 con i bonus arrivi quasi a 7 ma 6 5 6 milioni sicuramente era sotto i 7 e poi arriva piccoli che ha fatto un buon campionato a al lecce un buon campionato a lecce assolutamente considerando che il cagliari il suo capo cannoniera era viola con se gole ed è un trequartista che entrava da subentrato sicuramente piccoli può far bene anche perché oristano è stato venduto la padula andrà probabilmente in serie b quindi può far bene ma è un po' una super cazzola insomma cioè noi l'hanno dato un giocatore che è cresciuto e può fare ma c'è dopo che tu me l'hai descritto come un giocatore molto fisico molto veloce ma con i piedi un po discutibili poi non l'ho mai visto quindi non te lo so definire due quadrelli al posto dei piedi quindi capisci è un affare della madonna per il tifoso però se tu vai a vedere nello specifico tutto ciò che concerne l'acquisizione abbiamo venduto d'ossena che doveva essere convocata in nazionale tra l'altro queste sono piccole retroscena del cagliari dopo che ci sono altri problemi con gatti ma lo vendiamo subito al como e non voglio neanche entrare perché è proprio al como poi vendi sulle mana ti fai fondamentalmente 20 milioni e te ne prendi due in prestito di cui uno che non riscatterà mai e zortea 5 milioni ma anche dopo il riscatto sei sui 4 milioni io non penso mai che il cagliari anche se dopo facesse la stagione della vita spenderà mai quei soldi per dopo però considerando che oristanio che secondo me è un gran bel giocatore il venezia ha fatto un grande acquisto il cagliari non l'ha riscattato per 4 milioni siamo sempre lì insomma c'è la bellissima della società ecco comunque ti dico che dottia secondo me è un bel colpo per voi per me è bellissimo comunque ti volevo chiedere ma quando tu hai sentito la prima volta di sulle mana l'atalanta onestamente tu hai detto ma che cazzo fanno o hai detto beh sì ci può stare in una squadra che fa la champions ovviamente non come protagonista cioè nel senso vediamoci che dici che hai detto all'inizio boh oppure ti aspettavi una squadra di quel livello che andava a cercarlo non pensavo all'atalanta quando ho visto sicuramente la trattativa me lo aspettavo perché vedendo comunque io ero molto più propenso per macumbu onestamente macumbu rispecchia molto di più secondo me le idee di gasperini però il cagliari comunque che ha chiuso bene o male le strade secondo me è un bel acquisto se devo pensare a ciò che ha fatto a cagliari è un buon acquisto molto giovane dipende come si ambienta nell'ambiente atalanta cioè noi comunque lottiamo per la la salvezza il mantenimento della categoria voi siete campioni del di europa cioè ci sono due livelli molto diversi ovvio ovvio però dico tu intravedi le immagini di crescita in questo giocatore può giocare a alti livelli sì perché attorno dei bei giocatori assolutamente sì sono abbastanza convinto che sulle mana possa essere un gran bel giocatore anche perché comunque 9 milioni per lui è una cifra onerosa per quello che ha dimostrato l'anno scorso ma se devi pensare un investimento è un investimento ma che non va a svenare comunque la liquidità dell'atalanta quindi sinceramente se l'atalanta ha deciso di prendere un giocatore giovane senza spendere troppo ha fatto un grandissimo investimento secondo me perfetto questo qua è un po' la mia cosa perché la mia prima impressione è stata ok devono vendere devono vendere zortea questi non hanno soldi fanno su un pacchetto strano e amen tanto è un giocatore che dalla decima in giù lo piazzerai sempre e se ti fa una buona stagione bologna fiorentina assolutamente lo piazzi poi però parlando con un po' di persone alcuni un po' scettici dicendo no guarda non è proprio un giocatore altri invece hanno incominciato a dire guarda non è un giocatore completo però c'ha due o tre elementi che due o tre caratteristiche che effettivamente si sposano col gioco quindi mi dicono io non parto dicendo che questo il campo non lo vede perché mi hanno parlato appunto per esempio della corsa della legna che fa a centrocampo non lo so se dice anche a Cagliari vuol dire rubare palloni quant'altro allora non è magari un'operazione di compensazione ma è un'operazione anche un attimino mirata non so se Cristiano Stefano così hanno domande